Amore, guarda che devo rimanere ancora al lavoro per un po', quindi per favore prepari tu il pranzo, però prepara un piatto di pasta così al volo, senza sporca tanto che ieri ho pulito tutto il giorno, mi raccomando, a dopo amore, grazie Va bene, ci penso io, allora, questa serve, queste serve due o tre padelle e il frullatore, sì, poi la pasta, la pasta serve, qual è l'amore, questa, eccola la pasta nesta Eccola qua, vado a lavare le mani, briga, questa se si prende è una ricetta di cannavacciuolo, cosa la facciamo io e lui? Di chi è la ricetta? Del cannavacciuolo? Allora, tu muochi amica annavacciuolo e ti fai aiutare a pulire, o fra tre secondi se c'è uno scappio ti ammazzo, io ti ammazzo! Segui le avventure di Momo e Kika, siamo su TikTok, Facebook, Instagram e Youtube, condividi il video, lascia un like e commenta Andava bene? Anche troppo